C'è un'attesa spasmodica nella città pitagorica, pochissimi giorni dalla prima giornata di Serie A, attesa che riguarda il campo ma anche alcuni eventi che esulano dal calcio in senso stretto. Si attende infatti che vengano completati i lavori che stanno riguardando la tribuna con una parte della copertura già installata ma che deve essere completata nel tempo utile per poi poter effettuare il collaudo o comunque far sì che la commissione di vigilanza pubblici spettacoli possa dare l'ok. Nonostante manchino pochissimi giorni c'è fiducia sul fatto che tutto possa andar bene e che domenica all'uscita arrivi il Milan, anche perché è difficile prevedere una soluzione alternativa a così breve tempo dal match. Ma freme anche il campo dove Nicola ha bisogno di conferme per affrontare al meglio i rossoneri. Oggi alle ore 17.30 gli squali saranno di scena a roccellaionica per un test amichevole contro la compagine locale che milita in Serie D. La gara sarà trasmessa in diretta su RT Calabria. Certo l'impegno non sarà complicato come gli ultimi due con Cagliari-Piacenza ma sarà più che utile al tecnico piemontese per capire se concentrazione e determinazione sono a livello giusto. Contro il Milan infatti non potranno assolutamente essere replicati errori visti contro il Piacenza. Errori di sufficienza e poca concentrazione come affermato dallo stesso tecnico Nicola e che non dovranno mai più capitare. Vedremo dunque quale sarà l'atteggiamento degli squali e soprattutto quale 11 Nicola sceglierà. E poi c'è il mercato, fermo apparentemente per qualche giorno ma sempre pronto ad esplodere con gli ultimi 13 giorni che saranno davvero caldi. Il Crotone è sempre alla ricerca di una punta e di un terzino sinistro e poi forse di qualche occasione last minute una di quelle offerte che non si possono rifiutare.